Amici dell'Utes, dopo avervi presentato il ritratto della velata della Galleria Palatina, oggi vi presento l'altro grande ritratto d'amore realizzato da Raffaello, la fornarina conservata presso le collezioni di Palazzo Barberini a Roma. Probabilmente l'ultimo ritratto a cui Raffaello lavorò, fino agli ultimi istanti della sua vita, probabilmente eseguito fra il 1519 e l'aprile del 1520, quando morì. La prima notizia sul dipinto risale al 1595, quando si trovava nella raccolta di Caterina De Nobili Sforza di Santa Fiore in Toscana. La contessa morì nel 1605 e il dipinto passò nelle raccolte del genero Giovanni Buoncompagni, duca di Sora. A partire dal 1642 risulta invece negli archivi di Palazzo Barberini a Roma. Il problema principale è stata l'attribuzione a Raffaello, perché pur essendo palesemente firmato Raffaele Urbinas, come amava appunto firmarsi il divin pittore, rimarcando, sottolineando sempre il suo legame con la terra di origine, il riferimento al maestro Urbinate è stato messo in discussione fin dalla fine del XVIII secolo, quando lo scrittore d'arte piemontese, Guglielmo della Valle, nelle note dell'edizione delle vite di Giorgio Vasari, scrive appunto che l'opera fu realizzata da Giulio Romano. Oggi la tesi più accreditata dagli storici dell'arte è quello di considerare il progetto, l'esecuzione del disegno di mano di Raffaello, ma il ritratto dipinto grazie all'aiuto di un collaboratore o di più collaboratori, probabilmente della sua eccelsa bottega, forse lo stesso Giulio Pippi, Giulio Romano, il cui tratto è riscontrabile nel volto marcato e deciso della fanciulla rispetto agli aggraziati volti dei ritratti prettamente raffaelleschi. Probabilmente appunto l'opera venne eseguita negli ultimi mesi di vita di Raffaello, a cavallo tra il 1519 e l'aprile del 1520. Le prime scoperte sul dipinto risalgono agli anni Ottanta del secolo scorso, quando sulla base di indagini radiografiche eseguite allora emerse come dietro le fronde del ritratto vi fosse un paesaggio fluviale, probabilmente di stampo leonardesco, con piccole costruzioni in lontananza. Di quel paesaggio oggi non resta alcuna traccia, eccetto un piccolo cespuglio di mirto dietro la testa della stessa fornarina. Raffaello probabilmente cambiò idea in corso d'opera e attraverso le analisi a infrarossi che permettono di penetrare sotto il film pittorico si riesce a evidenziare come il disegno preparatorio sia stato un disegno libero, estremamente libero, un disegno non riportato da studio, non riportato da cartone, ma eseguito direttamente sulla tavola. Da grande disegnatore, qual era Raffaello, ha cercato appunto l'immagine, poi su questa immagine ha continuato a lavorare cambiando lo sfondo, modificando la posizione del braccio della fornerina, lavorando però direttamente con il pennello. Il quadro è stato cominciato con la più tradizionale delle tecniche pittoriche in uso all'inizio del Cinquecento, quindi con una preparazione in gesso e colla, un'imprimitura di cui si possono riconoscere le impronte digitali perché si usava a stendere il colore con l'uso delle mani. Ora non sappiamo se queste impronte siano proprio del maestro, perché magari si è fatta aiutare nella preparazione della tavola da qualche collaborazione, da qualche allievo di bottega, ma quando il maestro è arrivato a metterci le mani, ecco che la tradizione è rimasta alle spalle ed è emerso sicuramente il genio del pittore. Raffaello ha cominciato a disegnare in modo diretto e a cercare l'immagine impostando il paesaggio senza tuttavia risolvere mai il problema tra lo sfondo e il primo piano della fanciulla raffigurata. La soluzione quindi della quinta scenografica in un certo qual senso non doveva far altro che ravvicinare ancora di più la donna in primo piano, eliminando ogni distrazione intorno ad essa e forse per questo ha tolto il paesaggio alle spalle della fornarina. La parte inferiore del dipinto è ben evidente non è conclusa, non è terminata, è un non finito, come mostra il chiaroscuro della mano destra e del braccio che risultano meno definiti rispetto a quelli sinistri. Anche il contorno del velo sul braccio destro mostra uno stadio intermedio di finitura. Il quadro evidentemente non era stato concluso quando il pittore morì nell'aprile del 1520. Un ritatto costruito dal turbante fatto in seta dorata annodato sui capelli della donna secondo la moda d'inizio 500 che poi scende sulle sopracciglia, sugli occhi, sul labbro inferiore tirato su da un accenno di sorriso per fermarsi sui seni e sui capezzoli della donna. L'oscurità del cielo alle spalle della fornarina non fa altro che mettere in risalto il candore delle spalle e dei suoi seni. La diversità poi del colore, come si può entra a vedere dal volto alle spalle al busto, non fa altro che farci ipotizzare che il ritratto sia stato un ritratto colto dal vero. Bellissimo è il particolare poi dell'orecchio sinistro nella penombra, così diverso da quella della velata della Galleria Palatina, lo dicevo nel precedente incontro. Quella della velata è attaccato alla guancia, quello della fornarina invece è staccato, ma è straordinario il modo in cui riesce a costruire appunto questa zona d'ombra in cui si riflette la luce che proviene dal petto della donna con una profondità e una naturalezza che soltanto nei capolavori di Leonardo si poteva cogliere con questa capacità straordinaria di realizzare appunto i particolari con estrema naturalità, con quei seni che invece di nascondere sembra quasi offrire agli occhi dello spettatore, con una grazia tipica delle opere appunto del divin pittore. Un problema che non è stato certamente risolto è l'identificazione della fanciulla effigiata. È stata spesso identificata con l'amata del pittore a tal punto da fargli perdere la testa, a tal punto da spingere Agostino Chigi a trattenerla presso Villa Farnese per far concludere gli affreschi a Raffaello che non faceva altro che pensare a lei tutto il giorno. Anche se è un order vero, quella donna bellissima che sembra viva viva nel ritratto come la definisce Vasari, probabilmente si fa menzione della velata e non della fornarina. La definizione poi della fornarina apparirà in un'incisione del 1773 di Domenico Cunego e da qui nasce la tesi, in virtù di questa iscrizione di fine XVIII secolo, non molto attendibile però, che la fanciulla sia la figlia di un fornaglio di Trastevero, un certo Francesco, che abitava in via Santa Dorotea una certa Margherita Luti, in virtù anche del fatto, e l'abbiamo già evidenziato quando abbiamo parlato della velata, della presenza della perla sul velo del capo, così come appunto la velata, che rimanda al termine con il quale negli antichi studi mineralogici, in termini latini, si indicava appunto la perla, Margherita. Un vero e proprio colpo di fulmine? Probabilmente sì, che secondo però altri testimoni sarebbe stato suggellato con una scritta che è ancora conservata in una casa a Roma di via del governo vecchio, dove appunto c'è scritto che qui abitò colei che fu tanto amata da Raffaello Sanzio e che l'amò, probabilmente rimanendogli fedele anche dopo la morte. Pare appunto che dopo la scomparsa del divin pittore, la fornarina si rinchiuse, distrutta dal dolore, soffocata dalla perdita appunto dell'amato Raffaello, nel convento di Santa Polonia. Secondo Giorgio Vasari, l'incontro tra il pittore e la donna e la sua musa sarebbe invece avvenuto sulle rive di Trastevere, sulle rive del fiume Tevere. Qui la giovane donna si bagnava nuda quando incontrò lo sguardo di Raffaello, un approccio decisamente meno romantico del primo, che forse giustifica l'ossessione del pittore nei confronti della donna amata. Tale ipotesi comunque oggi trova poco riscontro. Il titolo della fornarina potrebbe essere forse un epiteto burlesco in dialetto romano che non ha nulla a che vedere con il mondo dei panettieri e che andrebbe forse ricondotto a una tradizione linguistica secondo la quale il forno costituiva un riferimento alla sfera erotica. In dialetto romano facemoci un'infornata. Ecco, secondo tale interpretazione Raffaello quindi avrebbe riprodotto una sorta di venere celeste, a cui alluderebbe anche lo sfondo, dove appunto il paesaggio è stato sostituito in un secondo momento Dona Fittar siepe di mirto, mele cotonne e alloro. Il mirto e le mele cotonne sono simboli appunto che alludono alla dea, alla divinità di venere. Anche la cancellazione dell'anello nella lunare della mano sinistra potrebbe essere intesa come la volontà da parte del pittore di sottolineare maggiormente l'aspetto mitologico della dea e quindi togliere l'aspetto più umano. È stata avanzata anche l'ipotesi che possa essere stata commissionata da Agostino Chigi per raffigurare la sua fanciulla veneziana, la sua amante veneziana Francesca Ordeaschi, prima amante e poi divenuta moglie del celebre banchiere senese. Ipotesi anche questa, poco probabile, non soltanto per l'inopportunità di ritrarre la moglie del Chigi in versione molto erotica, ma soprattutto perché conosciamo il volto della Ordeaschi, raffigurato da Sebastiano del Piombo nella celebre Santa Dorotea degli Uffizi. Interessante invece è l'accostamento della fornarina con il ritratto di una cortigiana del Museo Puskin di Mosca, dove appunto è ritratta una cortigiana dal titolo Donna allo specchio. Ecco, la fornarina quindi potrebbe essere una cortigiana rappresentata sotto le vesti di una venere poco pudica, il cui volto evidenzia dei tratti marcati e non idealizzati. Nella storia dell'arte sono molti i riferimenti a pittori del passato che hanno utilizzato cortigiane come muse ispiratrici. Pensando all'antichità, quindi alla storia dell'arte più antica, Apelle ad esempio, che si è ispirato alla celebre concubina di Alessandro Pancaspe per dipingere Afrodite Anademone, oppure Frine presa come modello da Prassitele per essere raffigurata come una cortigiana contenta. Un altro importante indizio a favore della ipotetica ruolo di cortigiana della fornarina è uno scritto, uno scritto del 1520, prima dell'aprile del 1520, prima della morte di Raffaello, uno scritto di Lillo Gregorio Giraldi che ricorda come nello studio del maestro vi fosse un ritratto di una fanciulla di nome Bianca, amata dallo scrittore, dice Giraldi, forse una cortigiana. Fabio Chigi nel 1618 descrive la fornarina come il ritratto di una meretricula, una giovane cortigiana amata da Raffaello. Un ritratto quindi che permetteva al pittore di medicare il suo sentimento, come se dopo una notte di passione, soltanto ricreando e ricomponendo l'immagine sulla tavola, potesse controllare il fuoco che bruciava dentro di lui. Quella sensualità della donna che è ritratta appunto nel volto e nel corpo della fornarina presuppone infatti che soltanto chi aveva sperimentato nella sua carne e nel suo cuore tale passione poteva fissarla poi sulla tavola. È tanto vero quello che sto dicendo che nel corso dei secoli sono stati in molti a cercare di riproporre il ritratto appunto della fornarina, partendo già dagli allievi di Raffaello come Raffaellino del Colle, che dipinge appunto la fornarina poco dopo il 1520, fino ad arrivare ad illustri maestri come Anger nel 1814, ma dipingevano con gli occhi che non erano quelli di Raffaello. Eccolo qui il dipinto di Anger, rappresentante appunto Raffaello e la fornarina. Dipingevano con gli occhi quello invece che Raffaello dipingeva con il cuore. E termino questo mio intervento leggendovi un celebre sonetto, il terzo sonetto rinvenuto di Raffaello, dedicato appunto alla donna amata e possiamo ipotizzare che questa donna amata sia appunto la fornarina. Un pensier dolce è rimembrar se in modo di questo asalto, ma più bravo è il danno del patir, ch'io restai come quei che hanno in mar perso la stella, se il verodo. Or lingua di parlar di sogli e il nodo a di di questo inusitato inganno, che amore mi fece per mio gravo affanno, ma lui pur ne ringrazio e lei ne lodo. L'or sesta era, che lo caso un sole aveva fatto e l'altro surse il loco, ato più da far fati che parole. Ma io restai pur vinto al mio gran fuoco che mi tormenta, che dove l'on sole disiar di parlar, più rimar fioco. Grazie.